Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Pillole di tedesco Bene, oggi di cosa ci occupiamo? Pronuncia Parliamo di pronuncia, ovvero Aussprache in tedesco Ovvio Partiamo dal presupposto che di base la pronuncia è molto simile all'italiano La maggior parte delle lettere si pronunciano come nella nostra lingua Però ovviamente non è tutto uguale Non è tutto uguale, ci sono delle eccezioni E anche un po' piccole Di regole da seguire Allora, il primo suono con cui partiamo è il dittongo I-E Dittongo ovvero due vocali insieme Come nella parola italiana ieri, per intenderci In tedesco si pronuncia I Una I lunga Per esempio nella parola Mite Che vuol dire affitto Oppure nella parola Libe Amore Amore O caro Anche nelle lettere Il secondo dittongo è E-I Che si pronuncia Ai Einstein Chi non ha mai sentito Einstein? Oppure nella parola Klein Piccolo Anche qui si trova in italiano per esempio la celebre Calvin Klein Anche se molti dicono Calvin Klein Poi un terzo dittongo è EU Come nella parola Europa Non si pronuncia così come la pronunciamo noi Ma OI Quindi O Europa E la moneta sarà OERO Questo suono lo trovate anche nella parola tedesca per dire Germania Quindi Deutschland Allora le vocali tedesche sono sempre le stesse come in italiano A E I O U Abbiamo tre vocali in più Sono particolari perché hanno l'umlaut Che cos'è l'umlaut? Sono i due puntini sopra Che fanno cambiare il suono della vocale Esatto E queste vocali sono la A La O e la U La A con l'umlaut si pronuncerà E Per esempio la parola ragazza si pronuncia Metchen Oppure Spett Tardi Poi abbiamo la O Che con l'umlaut diventa un Ö E poi somiglia molto alle francese Alle U francese Esatto E si trova per esempio nella parola Brötchen Che vuol dire panino Oppure nel verbo Können Che vuol dire potere Esatto L'U con l'umlaut diventa una U Come la U francese E la si trova per esempio nel verbo Dürfen Che è dovere E nel nome di città München Che è monaco di Baviera München Poi un altro dittongo che si trova Un po' particolare È la A con l'umlaut E la U Che si pronuncia OI Esattamente Come le U OI Per esempio il termine Verkoifer Che vuol dire venditore Commesso Oppure il verbo Troimen Che vuol dire sognare Questo è un suono che si trova Abbastanza spesso Perché molti plurali si formano così Anche nei verbi è parecchio usata Esatto Quindi bisogna fare attenzione Poi abbiamo una lettera un po' particolare Che in italiano non c'è Che è la Scharfeses E detta molto semplice Verrà pronunciata come una Nesse molto lunga Per esempio nella parola Weiss Che vuol dire bianco Oppure nella parola Spass Che vuol dire divertimento Feel Spass Buon divertimento Poi abbiamo altri suoni Per esempio il suono G-E Come nell'italiano Genova Per intenderci O gelato O gelato Golosone In tedesco si pronuncia G-E È un suono duro G-E Per esempio il nome della cancelliera Angela In italiano tutti dicono Angela Ma in realtà si pronuncia Angela Esatto E poi questo suono si trova per esempio Anche in molti participi passati Dei verbi Quindi per esempio Se andate in un negozio Se lo trovate chiuso Troverete magari l'inglese closed E poi il tedesco G-E Stessa roba per il G G-I Che si pronuncerà Ghi Un esempio La parola chitarra Che si pronuncia Gitarre E il nome che in italiano è Gisella In tedesco sarà Gisela Il tuo collega Esatto Allora il suono CH Può essere pronunciato in diversi modi A seconda della vocale che precede queste due lettere Allora se viene proceduto da una O Da una U Da una U O da una A Il suono diventa duro e aspirato Per esempio nella parola Machen E vuol dire Fare Un'altra parola Fumare Che in tedesco è Rauhen Rauhen Uno scatarramento Esatto Un pochino sì Perché una G Non è una K Che suono gradevole L'altro tipo di suono di queste due lettere Può essere quando è preceduto da altri tipi di vocali Quindi per esempio la I La E Oppure dalle vocali con l'umlaut E in questi casi viene pronunciata come una Hier Come per esempio nella parola che vi ho detto prima Monaco Che è München 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 No München München Oppure nel pronome personale Io Che in tedesco è Ich Poi abbiamo un altro suono che per me è ancora più complicato Ed è la R Puoi spiegarci meglio? Nel caso in cui sia all'inizio di una parola viene pronunciata normalmente Come per esempio nella parola Rot Tende a questa R a suonare un pochino più lunga Un pochino calcata Un po' come lo spagnolo Esatto Diverso è il caso in cui questa R qui sia alla fine di una parola In cui tende ad essere pronunciata come una A Per esempio nell'articolo maschile Dea Oppure Nella parola Abba Ma E poi abbiamo due suoni che hanno pronunce diverse rispetto all'italiano Due lettere anzi E sono la W e la V La W si pronuncia V Per esempio nella parola Acqua E vassa Vassa E poi finisce per R Quindi è un po' una A Vassa Oppure nella parola Würstel Al contrario la V Di Venezia Si pronuncia come una F Quindi Padre sarà Fata E un termine che vi aiuta a ricordarli entrambi È il nome della casa automobilistica Volkswagen Sono due parole unite Volks e popolo Wagen e mezzo Per chiudere Aggiungiamo la G Quando si trova alla fine delle parole Per esempio per dire 20 Noi diciamo Zvanzig La IG finale Tende ad essere pronunciata come una Leipzig E un altro esempio Visto che siamo a Lipsia Bravo E la città di Lipsia Che in tedesco è Leipzig Però questo suono Quando per esempio Aggiunge una vocale davanti Torna a diventare duro Per esempio Diciamo Leipzig Però l'abitante di Lipsia È Leipzig Perché aggiunge la E R Dopo la G Quindi Concludendo La pronuncia tedesca Non è così complicata Non è neanche così semplice Vedete che ci sono delle cose un po' strane Bisogna fare un po' di pratica Un po' di allenamento Un po' di ascolto Esatto E si può tranquillamente migliorare Comunque Se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Commentate se vi va E noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao ciao